Carlotta Morelli la vedremo protagonista in questa Ballad in Blood, in italiano una ballata sul sangue, questa pellicola che tu hai terminato di girare qualche mese fa, che è già stata distribuita in alcuni paesi europei, adesso arriva però ad Arezzo. Sì, finalmente, abbiamo girato l'Europa, siamo stati in Spagna, in Austria, il regista è stato recentemente in Brasile anche, e finalmente adesso veniamo qua, quindi è meglio di così. All'interno di una rassegna, insomma, del Mango Music Fest che credo da quest'anno si sia dedicato anche al cinema per due giorni. Senti, c'è sempre più bisogno di cultura anche qui nella tua città, insomma, come sappiamo non è mai abbastanza, però insomma siamo un po' deficitari, diciamocelo serenamente. Io sono andata a stare a Londra, quindi esci di casa a Londra e c'è l'imbarazzo della scelta su quello che fare, a volte purtroppo non si riesce a fare tutto, per via di tutte le cose che ci sono da fare, quindi io spero che anche ad Arezzo prima o poi si esca di casa e si dica, oddio, ci sono troppe cose da fare. Già questa domenica gli aretini sono di fronte a una scelta, perché c'è anche il film di Benigni, bellissimo film, nel quale anche io ho fatto la comparsa, sì, 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 sì. E quindi sono anche abbastanza contenta di vedere che ho fatto dei passi. Potevo essere in piazza come comparsa, invece sono qua come protagonista. E' iniziata questa carriera, possiamo dire che è iniziata con La vita è bella? Sì, puoi dire di sì, 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 assolutamente. Sicuramente è stato il mio primo set professionale.